Presidente Marchesani, dopo l'ottima Coppia e Bartali, due tappe, due volte nei primi dieci con i suoi uomini, ora è tempo di guardare il futuro e ci può ufficializzare oggi che state pensando a diventare un team professional per il prossimo anno. Hai detto benissimo, la Coppia e Bartali ci ha visti i protagonisti per ben due volte su cinque tappe con il nostro capitano Pippo Fortin e bisogna rimarcare anche il fatto di due belle fughe fatte, una alla prima tappa con Davide Pacchiardo e all'ultima tappa con Ivan Balikin, il quale è stato protagonista anche della vittoria dei traguardi volanti. Quindi questo è stato di buon auspicio per il prossimo futuro. Come hai detto tu, è già stata annunciata presso la Gazzetta dello Sport dal nostro nuovo team manager Roberto Damiani, noi stiamo già lavorando appunto per il 2007 affinché questo team diventi da continental ad un team professional. Percentuali che ci può dare oggi? Beh ad oggi diciamo che le percentuali sono abbastanza alte in quanto io già sto dando gli sponsor che oggi ci sostengono e tutti gli sponsor hanno preso di buon auspicio questo progetto e ci daranno sicuramente una mano molto importante e tant'è che io a fine mese andrò a Ibiza per parlare appunto con i governatori dell'isola perché loro tengono molto a questa unione, a questa partnership anche per promuovere il loro territorio soprattutto a livello turistico. Chiaramente dovete rinforzare la squadra perché per una professional ci vogliono corridori di livello più importante. Beh sicuramente poi sarà compito di Roberto Damiani, tant'è che è stato preso per questo motivo e poi voglio sottolineare il fatto che in società è entrato un personaggio dell'imprenditoria milanese come Ezio Panzeri il quale insomma mi inorgoglisce perché è veramente un imprenditore con le I maiuscola.